Si va verso una soluzione per la strada a Tumarrano che porta a Mussomele, qual è la situazione? Qualche giorno fa sono venuti da me in prefettura sia il rappresentante della Coldiretti sia l'assessore all'attività agricola e alla viabilità del Comune di Cammarata improvvisamente per una serie di vicende, praticamente era stato dato nuovamente non dico vigenza perché un vecchio provvedimento del 2014 era rimasto inattuato l'esecuzione a questo vecchio provvedimento ha discapito questo del diritto alla mobilità e con grande disagio da parte di chi in quella zona esercita attività economiche lì ci sono 36 aziende agricole, ci abitano delle persone, ci sono dei bambini che vanno a scuola la chiusura di questa strada poneva tutti quanti questi problemi ho chiesto al commissario e prontamente ha fatto fare un sopralluogo per verificare se ci fossero ancora quelle condizioni di pericolo evidenziate nel 2014 il sopralluogo per quello che informalmente mi è stato riferito ha dato un esito tutto sommato positivo quindi il primo tratto di quella strada, i primi 3-4 km dovrebbe essere riaperta alla soluzione perlomeno dei residenti, a questi residenti e a queste attività e imprese garantito quindi il diritto alla mobilità e alla continuità dell'attività di impresa è importante e io ringrazio da un lato comunque il Comune di Cammarata che si è posto assolutamente in termini di interlocuzione su questo problema la Col di Retti che si è fatta portavoce relativamente alle attività economiche di impresa delle aziende agricole, la provincia che ha aggiornato le sue valutazioni in modo da poter nell'interesse di queste persone continuare a essere garantiti diritti come quello della mobilità e dell'esercizio della vita di impresa che sono anche costituzionalmente garantiti